Dopo l'esplosione della bomba che nel giorno di Capodanno a Firenze ha provocato la perdita di una mano e il grave ferimento a un occhio all'artificiere Mario Vece che stava esaminando l'ordigno davanti alla libreria Bargello di via Leonardo da Vinci, il sindacato di polizia SIULP ha aperto una gara di solidarietà per aiutare la famiglia a sostenere le costosissime cure che ora attendono il poliziotto. Colpa spiegano il sindacato e l'avvocato della famiglia dell'artificiere dell'assenza di una polizia assicurativa che copra le forze dell'ordine in caso di infortuni anche gravi in servizio, proprio come quello di cui ha fatto le spese l'artificiere di 39 anni, una mancanza di tutela contro cui ora il sindacato annuncia battaglia, prima con un conto corrente aperto alle donazioni e intestato allo stesso SIULP di Firenze con causale per Mario, poi anche in sede di contrattazione con il governo. Appena verranno riaperte le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro chiederemo al ministro Madia di inserire nel contratto di lavoro una polizia assicurativa obbligatoria per tutti i poliziotti, i carabinieri e i finanziari che dovessero subire infortuni nel corso del servizio. Intanto sia il SIULP che la famiglia di Mario Vece chiedono che si plachi, soprattutto dopo la comparsa di scritte ingiuriose nei confronti dell'artificiere a Milano, il clima di intolleranza nei confronti delle forze dell'ordine e che ogni tipo di diffamazione sia perseguito. Per questo hanno annunciato anche la volontà di costituirsi parte civile nel processo. Abbiamo depositato una nomina come persone offese nel procedimento, quello per i fatti del primo di gennaio, sia firmato da Mario che quindi vuole stare nel processo, sia firmato dal sindacato unitario dei lavoratori di polizia al SIULP che vuole stare nel processo. Le indagini sull'esplosione, sulla quale è stata subito aperta un'inchiesta per tentato omicidio, intanto vanno avanti nel massimo riservo.